Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Denuncio per l'invito, saluto tutti i Ministri, le autorità, i Presidenti e i Consiglieri dei 132 Ordini Territoriali, tutti i delegati presenti oggi a Roma per gli Stati Generali dei Commercialisti e davvero mi spiace moltissimo non essere riuscita a partecipare di persona a questa iniziativa ma in ogni caso non volevo far mancare il mio contributo e non lo dico così insomma per questione formale, mi conoscete, sapete bene come insomma sono fatta, lo dico per la stima e per la considerazione che ho da sempre nei vostri confronti, ancora prima che assumessi l'incarico di Presidente del Consiglio e per diverse edizioni non sono mancata l'Assemblea Generale dei Commercialisti, lo dico perché voi siete un valore aggiunto per il nostro tessuto economico e sociale, rappresentato un punto di connessione insostituibile tra lo Stato e i cittadini, tra l'amministrazione finanziaria e le famiglie e le imprese. Negli anni abbiamo avuto modo di confrontarci più volte, non credo di sbagliare se dico che il comune denominatore del nostro dialogo è sempre stato lo stesso, ovvero la necessità di riformare il sistema fiscale italiano per renderlo più giusto, più semplice, più organico e più razionale. Eravamo cioè della stessa idea, l'Italia non poteva più rimandare una riforma che aspettava da quasi 50 anni che era proprio la riforma fiscale. Era necessaria una riforma che costituisse un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, che abbassasse la pressione fiscale, che ponesse le condizioni per un'Italia più attrattiva per le imprese e per gli investimenti. Allora appena ci siamo insediati noi ci siamo messi subito al lavoro, abbiamo rapidamente approvato la legge delega e come sapete ne stiamo dando rapidamente attuazione. Appena pochi giorni fa in Consiglio dei Ministri abbiamo approvato il tredicesimo decreto attuativo della riforma. Molto si è detto, ovviamente si è scritto su questo provvedimento, come sempre accade per ogni scelta che questo governo fa, però la verità è che questo decreto ci consente, oltre a rafforzare il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti più esposti, di fare un passo avanti molto importante nel cammino per un sistema tributario più semplice e più eco. Perché questo è un decreto che tocca tutte le tipologie delle imposte sui redditi, dai redditi agrari ai redditi diversi e contiene norme che semplificheranno notevolmente la vita di molti professionisti. Il nostro obiettivo è stato quello di avvicinare il reddito da lavoro autonomo a quello dell'impresa, creando una base normativa che fosse più semplice e più omogenea. È un passaggio estremamente rilevante che permette di cancellare le disparità che esistevano tra le due categorie di reddito. Altro punto qualificante del decreto tocca il sostegno delle aggregazioni degli studi professionali, seguendo il principio della neutralità fiscale, proprio come avviene nel mondo delle imprese. Si tratta anche qui di un traguardo importante, direi storico, verso una maggiore equità fiscale e una migliore organizzazione di molti settori professionali. Però sono diversi i provvedimenti che questo governo ha approvato in un anno e mezzo che puntano a valorizzare la figura del commercialista. Penso ad esempio al concordato preventivo biennale o al nuovo regime sull'adempimento collaborativo, due strumenti nei quali i commercialisti hanno un ruolo cruciale e che ci consentiranno, se lavoreremo tutti insieme e lavoreremo bene, di raggiungere due obiettivi. Cambiare l'approccio dell'amministrazione finanziaria nei confronti del contribuente e semplificare il quadro normativo. Quando questa riforma fiscale sarà completa, innovando quelle di Visentine, Vanoni e dando agli italiani un sistema più eco ed efficiente, sarà anche per merito vostro, sarà anche per merito del vostro contributo. Ma la collaborazione tra governo, Parlamento e commercialisti sta dando frutti importanti anche su altri fronti. Come sapete siamo a un passo dalla riforma della disciplina del regime di responsabilità dei componenti del collegio sindacale. È anche qui un'innovazione attesa da tempo, contenuta in una proposta di legge all'esame del Parlamento e ringrazio davvero chi ci ha lavorato e chi ci sta lavorando. Proseguiamo su questa direzione per dimostrare che se la politica, le istituzioni, le organizzazioni di categoria, il mondo delle professioni lavorano insieme, possono ottenere grandi cose per il bene comune. E quindi davvero grazie per il lavoro che abbiamo fatto insieme fin qui, ma soprattutto grazie per il lavoro che sono certa, continueremo a fare insieme. Buoni stati generali a tutti.